È un accordo strategico tra due soggetti, Proloco e Confcommercio di Pesurbino, che da anni operano per lo sviluppo del territorio, per dare vitalità e vita ai nostri borghi, ai nostri paesi. Da una parte le Proloco con attività di accoglienza, di organizzazione di eventi, dall'altra la Confcommercio con una intensa attività di promozione in Italia e all'estero, di organizzazione anche noi di eventi, di attività di informazione e di accoglienza. Due soggetti che non possono più non collaborare, cioè è necessario mettere insieme le nostre forze per il bene delle nostre comunità, per il bene della provincia. E questo accordo vuol anche dire aumentare la nostra capacità di dialogo nei confronti delle istituzioni comunali e regionali. Ci sono tanti temi che interessano le nostre comunità, che interessano le nostre imprese e le nostre città, anche perché noi siamo in grado di dare un servizio ai turisti che le strutture regionali non sono in grado di dare, perché i nostri punti di informazione lavorano 365 giorni all'anno, festivi compresi e spesso anche di notte. Purtroppo invece gli uffici regionali lavorano dal lunedì al venerdì e a sabato e a domenica, quando ci sono i turisti, gli uffici sono chiusi. È un risultato storico, straordinario, ma soprattutto importante per le aziende del nostro territorio e anche per le proloco del territorio, perché lavorare insieme, lavorare uniti, sicuramente si produce un prodotto importante per il nostro territorio. Ci sarà la collaborazione negli eventi delle proloco di ConfCommercio e negli eventi di ConfCommercio ci sarà la collaborazione delle proloco. Io credo che questo sia un esempio forse unico in Italia, non dico solo nella regione Marche, ma andrà a beneficio di tutto il territorio, perché quando noi mettiamo insieme il volontario che lo fa con passione e il professionista che l'aiuta a migliorare quel prodotto, ecco, noi abbiamo l'esempio dell'itinerario della bellezza e abbiamo l'esempio del Natale che non ti aspetti. Sono progetti che portano migliaia e migliaia di turisti. Siamo competitivi, vuol dire che siamo a livello nazionale molto avanti, lo dico con orgoglio. Abbiamo le nostre proloco del nostro territorio che si impegnano veramente tanto. Sono orgoglioso di essere presidente provinciale delle proloco perché posso testimoniare, anche ieri sera sono stato ad una riunione, che i nostri volontari sono l'espressione più amorevole del nostro territorio.